Nonostante fosse già stato condannato per violenza sessuale, aggravata e maltrattamenti in famiglia e fosse stato diffidato dall'avvicinarsi all'ex moglie, aveva continuato comunque a molestarla pesantemente, minacciandola e pedinandola. La donna, sfinita, in un continuo stato di ansia e paura, iniziato lo scorso maggio e protrattosi fino adesso, ha denunciato l'uomo ai carabinieri di riposto. Al termine dell'attività investigativa le risultanze sono sfociate in un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura di Catania. Ieri l'uomo, un 48enne residente ad ACI Sant'Antonio, è stato raggiunto dal provvedimento eseguito dai militari dell'arma. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Dovrà rispondere di atti persecutori.